Finalmente dopo tre anni di scontri positivi per i soci e i clienti della Banca di Teramo dalle operazioni che sta effettuando la BCC di Castiglione e Seraimondo? Noi nel primo comunicato che abbiamo fatto nel 2014 avevamo proprio allegato i principi ispiratori delle varie carte di credito, dei valori delle banche di credito cooperativo. Oggi finalmente sentiamo a parlare un presidente, questo Savini che tra l'altro non potrebbe fare altrimenti perché anche il presidente della federazione delle banche dell'Abruzzese e Molisane per quanto riguarda il credito cooperativo parla un linguaggio che a noi è gradito che è il linguaggio dei banchi di credito cooperativo. Quindi azione estremamente positiva, stanno facendo tutte le cose da manuale, cioè non abbiamo rilevato sbaffature e questa cosa dei 1800 soci che è stata anche oggetto di polemica era nelle cose, non lo sapevamo già perché era già stata per annunciata e perché se uno legge lo statuto si rende conto che se uno ha perso il requisito di socio chiaramente deve essere escluso lì verso le restituite le somme. Il rischio è che perdiamo tutto, così come è accaduto per Banca Tercas, quindi non ci sarebbe stato neanche questo 40% e bisogna scrivere la perdita del 60% di chi ha amministrato questa banca in modo non corretto tant'è che le nostre azioni saranno rivolte nei confronti di questi amministratori perché a noi era stato detto fin dal primo momento che ci siamo costituiti che le cose andavano bene e che era tutto quanto a posto. Siamo arrivati a questo punto, non è così evidentemente. A questo punto per avere il 40% sia soci ammessi che esclusi cosa devono fare? Sì, ci si può rivolgere noi l'associazione, appresso di sportelli a Banca e richiedere questa somma che verrà ridata entro sei mesi, quindi è un tempo abbastanza breve.